Continuiamo ad occuparci delle linee in corrente alternata monofase e appunto continuiamo ad occuparci dell'effetto di una linea di lunghezza non trascurabile che è rappresentata dai suoi parametri longitudinali RL e X con L. Dal punto di vista delle potenze noi abbiamo per il generatore in testa della linea che possiamo definire la potenza attiva, reattiva ed apparente che lui eroga. La potenza attiva più 1 sappiamo essere V1 per I per il coseno di Φ1 angolo di spasamento fra la tensione del generatore e la corrente di linea La potenza reattiva V1 per I per il seno di Φ1 è la potenza apparente S1 dato dal prodotto dei valori efficaci V1 per I. Questo per quanto riguarda il generatore. rappresentiamo schematicamente i vettori abbiamo, supponiamo che questa rappresenti la tensione del generatore V1 la corrente I sia questa con un angolo di spasamento fra la tensione e la corrente pari a Φ1 questo in testa alla linea Lungo la linea possiamo definire la potenza attiva dissipata dalla linea stessa PL dalla componente resistiva per effetto Joule quindi sappiamo essere RL per I al quadrato valore efficace della corrente al quadrato la potenza reattiva di tipo induttivo sarà data da XL per I al quadrato e la potenza apparente lungo la linea SL sarà data dalla radice quadrata della somma dei quadrati della PL e QL sul carico spostiamoci sul carico e anche per il carico possiamo definire la terna di potenze qua come vi ho detto ricordiamoci e segniamo che la potenza reattiva lungo la linea è di tipo induttivo quindi QL sarà maggiore di 0 spostiamoci sul carico e andiamo a definire la terna di potenze avremo la potenza attiva P2 assorbita dal carico data dal prodotto dei valori efficaci della tensione sul carico V2 per I per il coseno di Φ2 il fattore di potenza del carico potenza reattiva Q2 data da V2 per I per il seno di Φ2 e la potenza apparente S2 data dal prodotto dei valori efficaci V2 per I in questo caso la Q2 potrebbe anche essere di tipo capacitivo quindi potrebbe anche essere minore di 0 disegniamo schematicamente i vettori sul carico tensione corrente dove l'angolo di sfasamento tra i due sarà diverso da quello in testa dovuto all'effetto della presenza della linea e dei parametri longitudinali viene definito il rendimento della linea andando a fare un bilancio energetico sulle potenze attive la potenza attiva erogata dal generatore P1 e la potenza assorbita dal carico P2 non saranno uguali perché lungo la linea abbiamo delle perdite rappresentate da quella che abbiamo indicato come PL la potenza attiva lungo la linea rappresenta le perdite per effetto Joule sulla resistenza del cavo ricordiamoci la resistenza del cavo deve prendere in considerazione i due conduttori quindi fase e neutro quindi la lunghezza della linea è da considerare doppia e quindi il bilancio energetico sarà che le perdite lungo la linea saranno date dalla differenza fra la potenza entrante e la potenza uscente in questo caso possiamo definire il rendimento come il rapporto fra la potenza in uscita rispetto alla potenza in entrata questa classica definizione di rendimento la P2 quindi sappiamo essere uguale alla P1 meno le perdite lungo la linea PL e questo rappresenta il rendimento che possiamo anche esprimere come 1 meno PL fratto P1 queste varie espressioni definiscono tutte quello che viene chiamato il rendimento della linea ovviamente minore è il valore delle perdite maggiore sarà il rendimento della linea e quindi migliore sarà il comportamento della linea stessa da questo punto di vista